Grazie mille a tutti di essere venuti e vi do l'appuntamento ovviamente per il 12 di ottobre Bravo Matteo Anche da parte nostra Matteo ci ha fatto molto piacere aspettare la gara oggi e ancora di più aspettiamo tutti di nuovo il 12 di ottobre bellissima giornata anche oggi e non può affrontare le pene iniziando con i premi speciali partendo con il NIRS Tutupin alla VUCA 15 che ha vinto da Andrea Camarri Bravo Andrea Perfetto vai Eh perfetto Vince il bravi contest unico alla VUCA 8 Andrea Guerrini Bravo Andrea Andrea Vai posto Andrea In la categoria i minores vince Viola Guerrini Brava Viola Brava Viola Aspetta che si fa una bella foto una bella foto a Viola la guarda via perfetto vai Si aggiudica il primo signore con 35 punti Massimo Massini Bravo Massimo Grazie 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 Ok In seconda categoria con handicap di gioco da 21 al 36 in secondo netto lo vince Andrea Camarri con 36 Perfetto Perfetto Bravo Andrea Tira fuori il campo Vince il primo netto di seconda categoria con 38 punti Andrea Trapani Che gioco ragazzi Perfetto vai Sequestra tutto il formaggio Ma ce ne sono due Due formaggi In prima categoria con handicap di gioco fino a 20 vince il secondo netto Valerio Pacini con 35 punti Il primo netto lo vince Carlo Vaglioni con 37 punti Grazie 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 Infine il primo bordo che è vinto da Costantino Tocchi Bravo Costantino Grazie